Saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, lavori per rinnovare i binari tramviari a Ponte Matteotti e Travia dei Reti e Scalo San Lorenzo. Per quel che riguarda le linee tram, la 2 è sostituita da bus lungo tutto il percorso, la 3 viaggia su tram tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore ed è su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia, la 19 è su trama tra Cento Celle e Porta Maggiore e su bus navetta tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Per l'intervento a Ponte Matteotti sono deviate anche 10 linee di bus, tutti i dettagli sono su romamobilita.it